A Trapani, ormai a caccia gli incivili, il Comune vuole debellare il maccostume dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti per la strada, dichiarando guerra ai cosiddetti lanciatori di sacchetti, perché la spazzatura viene spesso gettata dal finestrino delle auto in corsa, un vero e proprio sport locale. I controlli, intensificati dalla Polizia Municipale, continuano a dare risultati sferati. Un altro trasgressore, ossia un altro lanciatore, infatti è stato individuato e sanzionato. Questa volta però il lancio non è avvenuto dall'auto ma dallo scooter. La multa elevata è stata di 216 euro, ma da un controllo approfondito è anche emerso che l'incivile di turno non era munito di copertura assicurativa e non aveva eseguito la revisione dello scooter, ergo mezzo sequestrato e un'altra multa, più salata 1.500 euro. Infine, un altro cittadino è stato sanzionato per errato conferimento ed esposizione dei rifiuti senza Mastello. Per lui è scattato una sanzione di 200 euro, frattando il sindaco Giacomo Tranchida invita i cittadini a segnalare chi non rispetta le regole, arregando un danno alla comunità. Ci siamo rotti le cabasise, che non è volgarità. Ci siamo rotti le scatole. È indicibile quello che accade, ma la cosa che più ci indispone non è tanto il delinquente che a poco a poco, un giorno sì, un giorno no, becchiamo, con sanzioni di 2.500 euro, che se non le paghi ti tolgono anche il reddito cittadinanza o ti tolgono anche altri servizi e addirittura vai in procedimento, in tribunale con una denuncia penale. La cosa che a me dà fastidio è che tanti cittadini, per bene, si girano dall'altra parte. Ora, non è possibile pensare che ci vogliono migliaia di vigili urbani, migliaia di poliziotti. Ognuno di noi deve sentirsi il dovere, quantomeno di ammiccare uno sguardo di rimprovero nei confronti di una violazione così evidente. Quando mi sporcano la città, sporcano casa mia e a casa mia sostanzialmente io questo non lo consento. Dunque un invito ai cittadini, per bene e onesti, ad essere al pari vigili, sapendo che dall'altro c'è un'amministrazione comunale che inventandosi la qualsiasi voglia cosa nel rispetto delle regole sta cercando di colpire profondamente questi incivili. Peraltro non solo sporcano la città, ma fanno un danno devolte agli onesti contribuenti, perché questo costo di quasi 2 milioni di euro l'anno, che noi dobbiamo impiegare come Comune per bonificare le discariche, potremmo utilizzarlo meglio per fare scerbatura, per fare spazzamento, per fare potenziamento dei servizi, delle azioni canine, tutto quello che vogliamo. Cerchiamo di essere trapanesi che ambiscono ad arrivare in Serie A anche in termini civiltà ed essere un po' tutti più presenti.